Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Grazie a tutti! 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 che non ho mai più negativi No, è giusto All right, è me il Lover è alice, and we're five points behind us You know, and then it's going down I know, I know, it's just fucking funny It's just out of left field Basically if we get five points We are basically good Basically I'm walling off the right Marking the back side of the bum M2 I stuck on it Staccone! Oh! Destroi! We should swing it! 99 in the back! In this corner! One shot! Dead dead dead! I'm swinging left! Dead dead dead! I'm placing spikes! I'm resting! I'm resting! Watch it down! Good place! Shit! Who was that? Optic! Oh! Oh! This path! This way! Nice! Bang outing this shot! Never mind he's not peeking it! Jump over this! Jump over this rock! Jump over this! I'm trying to outrun my own ult! I have one more smoke! I'm gonna shoot! I did! I did! I did it! I'm stunned still! There's a seer! There's a solo seer! There's a team on height! Crouch on me! Next smoke at 15! No, it's a team from the building playing aggressive! We gotta move forward! Move forward! Move forward on me! Climb up here! It's a solo! Nice! Nice! He knows! No, 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 no! Yes, I'm healing. I'm focusing on healing. I'm really low. Next smoking one. Mine behind you, Nate. I almost killed him. We got to play guys about this skill. I'm not kidding. I'm not kidding. Sweet. There's just no idea! We just need a thirst stem. We just need a thirst stem. We just need a thirst stem. I'm getting shot at by fucking ghost bullets. Can we fucking kill this guy? He's one HP on the fucking... Grazie a tutti Non mi piaceva l'acqua. Mi sono andata anche nell'icona. Mi sono sentite solo a loro. Il fatto che sia un'acqua in cui mi ha detto all'inconsciretto. Ho saputo. Ahahahahah... I'm not doing that, ok? Si. be ready to take it no it's not going to be short at all ok ok there was a left room that was clear by the way I don't have the right one's clear maybe actually it might be short there's a caustic sitting both both wait what bro there's someone right there what the fuck the portal's gone the portal's gone we need to look for him I'm trying to they are split-folding they are split-folding get off the way get out back slow back slow cancel them nice 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 they'll go back soon play slow play slow they'll leave nice nice take space now and reinforce exactly boys good job we don't all in like that lucky get in yeah I'm here I'm here I'm here I was just watching the vibe just chill boys we are fucking safe we're on a really good spot now yeah I got no idea I got no idea of this guy listen I mean I I picked and got oh my god there's a DDoS in the fucking A1GS corner bro we just got godspot I'm gonna lose my fucking mind oh my fucking god this game is horrible and listen why is fucking Nusk okay sure Nusk is Nusk has to fucking play Bungal or fucking bloodhunt without scan character let me check if they are bro there's a DDoS in a fucking no wait bro what what happened hey Nick huge fan huge fan bro I came here to party I appreciate you bro I can't I have no mic man I love it I love it when you average 170 damage in a LGS bro ready to go what not 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 but you Ciriù, puoi Miel, puoi Miel! Quello che vuole! Vieni, vieni, vieni! Vieni, 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 vieni! Miel non può essere a qualcuno. Mielto Stela è arrivato, quindi ci sono già che Mielto Stela ciò che vuole. Ci sono tutti i Mielto Stela ci sono tutti i Mielto Stela perchè non c'è chi non c'è? Cosa cosa è meglio? Non c'è non c'è? Cosa cosa è lì? Cosa cosa è quello che breathe? . È un peso hole! Cosa è un peso di lungo! Ci sono tutti i miei! Cosa è lì! Ci sono tutti gli stani! Io non sono tutti i miei! Cosa è lì! Ci sono tutti i miei! Cosa è lì!